Ciao a tutti ragazzi e ben tornati in questo nuovissimo video sul mio canale Oggi siamo tornati con una magia con le monete Questa magia si consiste con 4 monete Adesso appendo subito 1,2,3,4 Quattro monete 1,2,3 e 4 E non un'altra Che due monete così Vanno a finire in questa mano Due monete Una Va a finire in tasca Ok E quell'altra va a finire in quattro Quindi basta fare un gesto Così Tutti penseranno che c'è una moneta In realtà qua ce ne sono Una E una Due E queste mettiamo dalla parte E qua pensare che tutti ci sono due monete Ma in realtà ci sono Tre Monete A tre like c'è il tutorial Quindi un bel like Iscrivetevi con la campagna Tattica Tattica Noi come sempre subito con un nuovo video Bellissimo Ragazzi vi consiglio ovviamente Un bel libro che me fa Che è bellissimo per me Che è la strada Maesta La carta magia Che qua ti spiega più di 200 giochi E di Jean Jean Howard E Federica Brown Ed è questo Io qua C'ho tutte le pagine da leggere Cioè Questa è quella che ho letto Però tipo Annullare adesso Piegato sotto il mazzo Che ti fa vedere proprio Eccolo qua Oppure Il gimmick Ragazzi Una magia che vi volevo far vedere Oddio una magia Ma è un gimmick Con una carta Bagnata Che adesso diventa dura Così Sentite Ecco Le gombe là Si gioca Capriata Tattica Tattica Noi come sempre Gibbichiamolo posso con un nuovo video Bellissimo Ciao ciao Arriga scusate se non ho fatto video Ma perché la mia macchina fotografica questa E non andava E proprio non andava E non va Perché Si è rotto qualcosa all'interno Però va buono Va buono raga Like e si gioca Campriata Tattica Tattica Speriamo che la magia vi è piaciuta Lasciate 3 like Ci sarà il tutorial E niente Ci becchiamo direttamente Oggi pomeriggio Alle 5 Ma buono Ciao Promete io sto usando le 100 lire Di una volta Non so se me la metto a fuoco Ok Ciao ciao Tuss Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti